Buonasera gentili amici, bentrovati, nuovo appuntamento con Confagricoltura News, vado subito a presentarvi l'ospite di questa sera, è tornato a trovarci, quindi gli studi del Boma, Roberto Biondo, responsabile dell'area fiscale di Confagricoltura Manto, ciao Roberto ben trovato, ciao Andrea, allora parliamo di scadenze ma non solo, partiamo da quelle però perché tra novembre e dicembre, quindi gli ultimi mesi dell'anno, ci sono degli appuntamenti importanti da rispettare, quindi cerchiamo di ricordarli, proprio per non mancare questi appuntamenti. Esattamente, allora il periodo è pieno di scadenze, infatti già con il 16 di novembre, tutte le imprese avranno l'adempimento IVA il 16 di novembre, ci saranno poi per le imprese agricole i contributi previdenziali dei lavoratori autonomi, poi arriviamo al 30 di novembre dove ci saranno la scadenza per l'invio delle dichiarazioni fiscali, che quest'anno è stato spostato a fine novembre, poi avremo come adempimento la scadenza delle imposte, il secondo acconto, per il quale non sono previsti i rinvii se non per particolari attività e non riguardano purtroppo il settore agricolo e poi arriviamo a dicembre con la scadenza dell'imu al 16 dicembre, anche questa naturalmente non ha subito delle variazioni rispetto all'anno precedente e la scadenza della conto IVA al 27 di dicembre. Scadenze importanti invece da tenere in considerazione per gli investimenti da effettuarsi nell'anno 2020 è quella del fine anno perché chi ha intenzione come impresa di fare degli investimenti in beni strumentali nuovi si consiglia di effettuare l'investimento entro il fine anno o altrimenti dare un acconto all'impresa fornitrice del macchinario almeno del 20% in modo tale da utilizzare il beneficio previsto dalla legge 160 2019. Ecco il famoso credito di imposta 4.0, lo di cui spesso abbiamo parlato anche noi. Benissimo, quindi ricordiamo ovviamente a tutti gli amici a casa, agli imprenditori agricoli, ma non solo che possono fare riferimento agli uffici di confagricoltura e di via Luca Fancelli per ricevere informazioni o essere aiutati anche nella compilazione di queste pratiche per seguire questo iter e arrivare ovviamente a presentare tutto quello che serve nei termini previsti. Grazie a Roberto Biondo che ritroveremo sicuramente in futuro, appuntamento invece con gli amici a casa. Alla prossima settimana, arrivederci.